Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in sala, come vedete dal tabellone siamo arrivati ai bui 800, 1.6 con l'ante a 100, 13esimo livello di gara che ci porta ad 88 player left quando l'everage è appunto salito a 59.545, ancora Ronnie Rosenthal dentro a rappresentare i colori di Peeve così come il sommo che altrettanto ci rappresenta, avete visto prime mani del torneo agitate per quanto riguarda l'action ai tavoli, qui vedete appunto il tavolo di Ikin 83 The King e Marco Apicella insieme a Jan il chip leader di inizio giornata che sta tentando appunto di riprendere quota dopo il brutto colpo subito contro Ikin con la mano Asso K contro Asso K e il colore appunto dell'italiano, come vedete il low stack piano piano è stato ricostruito, sta continuando un'aggressione continua, quindi un ottimo giocatore, vi dico che appunto i livelli per quanto riguarda la giornata di oggi saranno all'incirca 13, si tenterà di raggiungere la quota di 18 player left, in alternativa appunto verranno prese decisioni dall'organizzazione strada facendo proprio per valutare anche l'andamento del torneo e comunque per non far risultare troppo lunga la giornata di domani, noi ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti dalla sala, come sempre pokeritaliaweb.org per la diretta dell'evento in esclusiva, ciao a tutti!